ragazzi oggi siamo qui su blowstart per fare due cose, due e intanto io vi mostrerò la potenza di un nuovo boss e poi abbiamo un po' un messa bianco con il mio testo e io farò arrivare a 7 ragazzi immaginate se qua trovo un nuovo boss ragazzi guardate 290 punti stellari, ho appena sciopato il mio negozio stellari, ragazzi io sono usato tutto il tempo di quest'asso da più di un anno a conservarmi i punti stellari ma ora finalmente posso prendermi il mio ragazzi comunque mi manca solo un livello e Leon potrà entrare in un secondo il giorno è fantastico tanto a questi guardate che si volano come spara, bomba, c'ho fatto, c'ho fatto, c'ho fatto, c'ho fatto solo due passate, o no, questo è questo, questo è il primo passato, in realtà ne abbiamo fatto tre, però poi è riuscito a venire col tuo scaschino, con il tuo scaschino, con il tuo scaschino, con il tuo scaschino, con il tuo scaschino. No, non lo trovo, cacchio figlio, perché raga noi siamo in giro a campo, è bello, non lo vedi, no, abbiamo già successo una squadra, non pushare troppo, no, no, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, io potrei sparare di più, perché io sparo così da dentro, Vieni, 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 se ci bussiano loro a noi, li distribuiamo, Boccio, bacio, bacio, cazzo, no, ok, super, super, lo incastiamo così, stac, tattico, Vieni qua, vieni con le mine, vieni con le mine, vieni con le mine, si accedi, No, tranquilla, no, tranquilla, no, me lo credo le mine, posso, entro lento di queste cose, addio, parto dal minuto, primo posto, per i bocci, oh, ma c'è c'è 7, Fammi vedere quanto ti manca, neanche troppo, due pastiche, perché facciamo che le tagliamo? No, 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 giochiamoci, il mio titolo sarà la potenza di buono, diciamo, no, di buono, e quindi facciamo due cose con le mie, e per questo lo vede spollicare, E' più live, per chi porti, e noi a questo giorno, noi ci occupiamo nei giorni, noi ci passiamo del tempo, perfettissimo, è distrutto, è che spollicare, No, però da lontano poi c'è il tuo bambino, non mi ha dimostrato, è distrutto, no, 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 non c'è distrutto, ma io sono vicino, non lo faccio, io l'ho, Guarda il tuo bambino, non lo faccio, guarda il tuo bambino, due secondi, Raga, e allora, vi spieghiamo, abbiamo perso, ma perché non andava a internet, io sono venuto andare a prendere il telefono che ci portava a internet e metterlo qua, così almeno prende meglio, perché ci ha detto connessione, Questa volta ci ha fatto uscire da una cattiva, e la vedete in atta anche voi, come se mi interrotta, prima non mi sa che l'ho fatto leggere, Raga, tanto tra quattro giorni ritorniamo a casa e la connessione la faremo buona, soprattutto potrò tornare a fare video di Fortnite, no, no, ci hanno fatto il panino, vieni di poi, Tu ti ho ucciso? Cosa? What? Come lo faccio? E' successo la stessa cosa, Oh, ho capito, aveva il gadget, ah ma il gadget di questo mi dicevo ma come hanno fatto a farsi così male ma forse è ma ti ricordi quella parte di casa che avevamo fatto per noi no ma eri distante e lì poi ha detto che fai ci fuori cioè se è bagliato il gioco comunque non parliamico oh nida io uccido nida oh nida io l'ho fatto il panino ucciso nida è una cosa che vuole non è la tua scala non è la tua scala ma tu voi vissi che diamo stupo la tua scala questo è un po' oh mi sono praticamente ricaricato un secondo minimale che ora non l'abbiamo tutta no 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 però porta le coppie che sono tante 7 coppie buono 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 un attimo esce se non vedete dico che ti manca una pastita o più ma siamo alle stesse coppie di prima perchè ci stanno vi tagliamo questa ok ragazzi abbiamo preso poi quei razz abbiamo capito cioè ho pensato perchè non cioè ho pensato di farvi vedere la partita però non dovete mettere un razz che potrebbe essere noioso erei mulheres non wanting non lo ha fatto tantissimo no no io ho fatto tantissimo no ai clone vai attaccare, vai attaccare, vai attaccare cosa bellissima con i gadget? è tutto nelle mani due più che altro, buono, buono, non si può avvicinare no, secondi, vai ultima partita e vogliamo sbottare, almeno un secondo buono, non lo so, hai detto buono, non lo so ragazzi ma quanto è figo buono, guardatelo quanto è figo l'ho sciolto, eh ma buono già a livello 7 fa queste cose, pensa a livello 10 poi qua ho visto qualcuno, ho visto movimenti da queste cose no, 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 ho capito, era quella la compagna di Jesse quella che abbiamo uscita all'inizio no, 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 no sono un rimasto no, no, non piace questo, non piace non è una speciale ho un paura esatto l'ho fatto come ho sciolto questo fa tutto quanto ti manca tutto cotto dobbiamo vincere dai raga arriviamo qui ci tagliamo anzi no già che l'ultimo no vabbè noi non facciamo un'altra e alla fine sono solo 10 minuti poi si trova un nuovo brawler lo scrivo apro la cassa delle 7 mila coppia si sblocca ah si ho 7 mila coppia trovo un nuovo web non scrivo il brawler non scrivo il brawler trovo un nuovo minuto questo non è leggendario no non posso non posso ho visto eh sicuramente anche non potrei vincere 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 no ma la devi vincere guardate raga guardate guardate che bellezza guardate un po 6 9 9 9 mi manca una coppa pensa che io quando dovevo arrivare alle 10.000 ho fatto 9 9 9 9 poi ragazzi non stiamo giocando a livelli scassi e cioè abbiamo 17 18 gradi io sono rimandando gente scassa continua così vai 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 scappa quando abbiamo più power up se le attaccheremo poi c'è ucciso un mondazino poi c'è morto frank dai un attore che muore va bene ok possiamo anche morire no no oh ha pochissima vita ucciso genio ragazzi 7.000 precise guardate qui 7.000 apriti la tua megacart sei schifo e speriamo che non sia un gadget e tara e trova il problema mitico ragazzi ha trovato tara nella megacart non ci credo ora se la va bene a provare ma sarà schifo perchè è che la due è un problema mitico si tu puoi fare il titolo arrivo a stati via till free trovo il mio primo roller mitico ah il tuo primo si ah bella si guarda qui fa si è mi chiusa Sì, perché lui fa schifo, mi fa schifo, non è schifo, non è il gioco di gioco, no. Guardi, oh, ha quasi caricato la figura. Oh, non te la potenzialità, cioè perché le abilità fanno molto schifo. No, non te la potenzialità, eh beh, monta la falda tutto, no. Sì, si sono avviene. Dai, dai, dai. Noi proviamo l'ultima, cioè comunque sono felici i sogni. Facciamo l'ultima. Non sarà, no, 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 non lo voglio trovare male, non lo voglio trovare. Non lo voglio trovare. E poi chiudiamo. Poi magari non ti gioco a giocare. No, no. E poi, ragazzi, è bellissimo. Bellissimo, è bellissimo. La King Dubbo. Bellissimo. Io sono veramente non trovato il nuovo drone. Tombo e me, che bello. Questa, ma è il mio carico. E poi, guarda. che è che è il mio carico. Sono qui? No, 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 no. Non posso riferire. Non posso dire che è il mio carico. Non posso dire che è il mio carico. Non posso dire che è il mio carico. Oh, è il mio carico. Oh. Oh, è il mio carico. Non posso fare da là, perché si fornì no. ma io faccio un botto di torno ma poi non mi carico prima ho ucciso uno, ti spiego l'avevo messo su per tre ore prima poi un nemico ci va sopra prima è ucciso cani, si, non penso, non lo devo fare neanche io, bene ragazzo, mettete un like, iscrivetevi al canale, quello mio e quello mio pacchetto, vi lascio in descrizione, anche il canale instagram di entrambi, anche quello ragazzi andate a seguire tutti su instagram, vabbè vi lascio tutto in descrizione comunque, andate a seguire me, tutti i miei due, che vi lascio sotto in descrizione, il pacchetto shop e il pacchetto, a lui, il pacchetto spiker e poi vi lascio in descrizione e poi Giannina, trattino basso là, trattino basso, e Nina, trattino basso là, trattino basso gattina, bella ragazzo, bella dai, no, che cosa vuol dire, sì grazie 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 grazie